Si torna a parlare, dopo praticamente un anno di silenzio, del sottopasso di Via Canale, Molinetto, per il quale nella primavera del 2021 era partita anche una raccolta firme per chiedere una maggior tutela della viabilità e delle realtà commerciali che sarebbero state coinvolte dal cantiere. Gli imprenditori hanno più volte evidenziato come la clientela andrà a ridursi notevolmente a causa dei lavori. Il tema è stato al centro del Consiglio Comunale di Ravenna, dove Filippo Donati, consigliere comunale di Viva Ravenna, ha presentato un question time a cui ha risposto l'assessore ai lavori pubblici Federica Del Conte. Un progetto definitivo della nuova infrastruttura ancora manca, nonostante il confronto all'interno della conferenza dei servizi, sia iniziato nel 2020. La soluzione presentata per eliminare il passaggio a livello attualmente prevede la realizzazione di due sottopassi, uno stradale e uno ciclo pedonale, 170 metri. È stato ipotizzato che subito dopo l'incrocio con via Rubicone da un lato e poco prima dell'intersezione con circonvaliazione Piazza d'Armi e via Bellucci dall'altro, inizi l'ingresso al sottopasso. Il Comune di Ravenna ha chiesto di aggiungere al progetto base una rotatoria fra via Canale Molinetto e via Rubicone a un prolungamento della galleria per non chiudere l'accesso di via dei Poggi. Due variazioni che l'amministrazione ritiene fondamentali. Nella loro petizione, residenti ed esercenti avevano invece chiesto due rotatorie su ambilati del sottopasso all'incrocio con via Rubicone e all'altezza di via Poggi. Al momento sono in corso le valutazioni da parte di Rete Ferroviaria Italiana per le alternative progettuali. Si sta quindi aspettando l'analisi finale con l'aggiunta delle proposte migliorative, con l'aggiornamento dei costi e dei tempi di realizzazione. Difficile oggi ipotizzare una data di inizio e fine lavori. Il progetto base prevedeva un cantiere di 25 mesi. Probabile che i tempi di lavoro aumenteranno. Ancora quindi impossibile ipotizzare ristori per le realtà commerciali che saranno penalizzate dal cantiere che andrà a modificare la viabilità della zona e quindi l'afflusso della clientela. Tutto dipenderà dal progetto che si andrà ad adottare.